Le Guerre Puniche Le Guerre Puniche furono una serie di tre conflitti che videro come protagoniste Roma e Cartagine tra il III e II secolo anno corrente, che si conclusero con la totale supremazia di Roma sul Mar Mediterraneo. La Prima Guerra Punica 264 a 241 anno corrente La Prima Guerra Punica ebbe inizio nel 264 anno corrente quando i Mamertini, mercenari campani che controllavano la città di Messina in Sicilia, chiesero aiuto a Roma per difendersi da Cartagine, che aveva mire espansionistiche sull'isola. I Romani, che erano già in competizione con Cartagine per il controllo del Mediterraneo, accettarono la richiesta di aiuto e inviarono una flotta in Sicilia. La guerra si svolse principalmente sul mare e vide la supremazia dei Romani, che vinsero due importanti battaglie navali a Milazzo 260 anno corrente a Ecnomo, 256 anno corrente. Nel 241 anno corrente, i Romani ottennero una decisiva vittoria navale a Tunisi, che costrinse Cartagine a chiedere la pace. Con il Trattato di Pace di Zama, Cartagine perse la Sicilia e dovette pagare un'indennità di guerra di 320 milioni di denari. La Seconda Guerra Punica 218 a 201 a Punto C. La Seconda Guerra Punica fu il conflitto più importante tra Roma e Cartagine. Ebbe inizio nel 218 anno corrente quando Annibale, il generale cartaginese, attraversò le Alpi con un esercito di elefanti e sconfisse i Romani nella battaglia di Canne 216. Anno corrente Annibale continuò la sua avanzata in Italia, conquistando Roma e molte altre città. I Romani, però, riuscirono a resistere all'invasione e a riconquistare il territorio perduto. Nel 202 anno corrente, le due potenze si scontrarono nella battaglia di Zama, in Africa. I Romani, guidati da Scipione l'Africano, sconfissero Annibale e Cartagine fu costretta a chiedere la pace. Con il Trattato di Pace di Zama, Cartagine perse la sua flotta. La sua egemonia nel Mediterraneo occidentale dovette pagare un'indennità di guerra di 100 milioni di denari. La Terza Guerra Punica 149 ha 146 anno corrente. La Terza Guerra Punica fu l'ultimo conflitto tra Roma e Cartagine. Ebbe inizio nel 149 anno corrente quando Roma, temendo che Cartagine si stesse riarmando, le dichiarò guerra. I Romani assediarono Cartagine per tre anni e la conquistarono nel 146 anno corrente. La città fu rasa al suolo e Cartagine perse definitivamente la sua indipendenza. Conseguenze delle Guerre Puniche Le Guerre Puniche ebbero conseguenze decisive per la storia del Mediterraneo. Con la sconfitta di Cartagine, Roma divenne la potenza egemone della regione, ottenendo il controllo del Mar Mediterraneo e delle sue principali rotte commerciali. Le Guerre Puniche segnarono anche la fine dell'età ellenistica e l'inizio dell'età romana. La cultura romana si diffuse in tutto il Mediterraneo e Roma divenne la nuova capitale della civiltà occidentale. E Guerre Puniche nella cultura Le Guerre Puniche hanno avuto un grande impatto sulla cultura occidentale. Sono state raccontate da storici e scrittori romani, come Tito Livio e Appiano, e hanno ispirato numerose opere letterarie, artistiche e cinematografiche. Tra le opere più famose che si ispirano alle Guerre Puniche vi sono, l'Eneide di Virgilio, che racconta la storia di Enea, un eroe troiano che fugge da Troia in fiamme e giunge in Italia, dove fonda la città di Roma. La vita di Annibale di Plutarco, che racconta la vita e le imprese di Annibale, il generale cartaginese che sconfisse i romani nella battaglia di Canne e punto il trionfo di Scipione di Andrea Mantegna, che raffigura la vittoria di Scipione l'Africano nella battaglia di Zama. Il Gladiatore 2000, un film diretto da Ridley Scott che racconta la storia di un gladiatore romano che combatte per la libertà. Le guerre puniche sono ancora oggi considerate un momento cruciale nella storia del Mediterraneo e dell'Occidente.